Ci siamo, siamo in diretta, allora ciao a tutti dalla pagina Scienze dello Sport, oggi parliamo di sport e medicina, tutto quello che c'è dietro, tutto quello che bisognerebbe sapere, conoscere per evitare insomma anche che succedano problemi ovviamente evitabili e per questo argomento un po' delicato ma molto importante che poi deve essere ovviamente discusso da tutti i professionisti dello sport abbiamo con noi un ospite che è Gianfranco Beltrami, ciao Gianfranco, vi presento Gianfranco Beltrami, è il vicepresidente nazionale della FMSI che è la federazione medici dello sport, lui è medico dello sport e cardiologo in un centro molto importante a Parma dove anch'io l'anno scorso sono andato più volte come suo consulente, poi questa pagina è cresciuta troppo, ahimè ho dovuto interrompere, ma magari avremo altre occasioni. Allora subito Gianfranco, com'è la situazione diciamo in Italia, nel senso la medicina è ovviamente importante per chi fa sport e chi fa attività fisica eccetera, ma diciamo quali sono le regole che al momento governano il passaggio tra medicina e sport? Diciamo che la legislazione italiana intanto è una legislazione molto evoluta e ci posiziona diciamo nell'ambito della prevenzione ai primi posti in Europa in quanto in Italia la visita medico sportiva prevalentemente per gli aziti agonistici è obbligatoria per legge ed è regolamentata da una legge del 1982 e quindi questo è il primo tipo di certificazione, è la certificazione appunto di tipo agonistico che dipende dai vari sport e prevede tutta una serie di accertamenti a seconda appunto dei tipi di sport che fanno gli atleti. Esiste poi una seconda tipologia di visita che è la visita di tipo non agonistico e questo invece seconda tipologia di visita è stata recentemente appunto aggiornata da una legge più recente che è una legge di un paio di anni fa che appunto ha diciamo introdotto alcune novità la più importante della quale è l'obbligo dell'elettrocardiogramma riposo anche per la certificazione non agonistica. Ecco, questo è infatti molto importante perché molte volte si trova di fronte, e così rispondiamo subito a una domanda ad esempio di Rosaria De Blasio. Allora, va fatta perché è un obbligo o va fatta perché è necessaria? Perché molte volte l'obbligo di legge dice delle cose però in teoria io vado, che so, a fare attività nei parchi da solo, sul lungomare e così via e quindi non sono tesserato con nessuno e sono tantissimi, magari gli amatori che fanno corsa o anche fitness eccetera per un po' in autonomia. Quindi siccome non sono tesserato, non sono iscritto una società, non è un obbligo, non la faccio. È da intendere in questo modo? No, diciamo che la visita comunque medico-sportiva rappresenta un ottimo modello di prevenzione specialmente in Italia in cui è stata abolita la visita di leva, attraverso la visita medico-sportiva si rilevano delle patologie anche per la prima volta. Molto spesso capita a noi medici di verificare appunto per la prima volta anche a dei ragazzi di 18-20 anni delle patologie che non conoscevano sia patologie di tipo cardiovascolare sia anche patologie di tipo muscolo-scheletrico addirittura dei varicoceli, delle problematiche di tanti organi apparati vengono riscontrati per la prima volta con la visita medico-sportiva. Poi abbiamo un altro dato molto importante che in Italia sono stati fatti dei lavori, delle statistiche e la mortalità di morte improvvisa durante l'attività sportiva si è nettamente ridotta da 4 casi su 100.000 unità prima della introduzione della legge del 1982 fino ad arrivare a un caso su 100.000 unità. Quindi diciamo che la visita medico-sportiva consente anche di impedire tantissime morti improvvise che vengono appunto evitate attraverso questo screening. Ecco quindi diciamo che è buona norma anche per coloro che fanno attività fisica magari non tesserati con nessuna società almeno una volta all'anno fare una visita medica magari dal medico dello sport che insomma è quello che anche per specializzazione di tipo medico ovviamente conosce meglio la tematica e soprattutto conosce le intensità perché anche da questa pagina tutte le volte diciamo diamo un consiglio alle persone che poi vanno dal medico dello sport e quasi sempre insomma Gianfranco ne abbiamo parlato anche da soli. Ovviamente l'utente che va dal medico dello sport e ci vanno una volta all'anno non ha un rapporto così né di fiducia né di confidenza con il medico che vede una volta all'anno. Quindi molte volte dice guarda vado in palestra faccio fitness e quindi magari il medico dello sport si fa un'idea. Poi magari invece questa persona va in palestra ma fa allenamenti di alta intensità, fa HIT, magari ci va tutti i giorni, fa allenamenti importanti. Quindi secondo te diciamo a livello legislativo adesso dovrebbe essere collegato fra poco anche un avvocato per gli aspetti legali ma se si collega siamo andiamo avanti. Però secondo te che cosa dovrebbe dichiarare, riferire il paziente al medico dello sport? Esattamente l'intensità o solamente il fatto che è un'attività non agonistica o agonistica? Sicuramente se si danno anche dei parametri legati all'intensità dello sforzo è sicuramente meglio perché in effetti va detto anche che tanti sportivi anche non agonisti fanno degli sforzi di tipo massimale o anche sovramassimale e soltanto con questi tipi di carichi si riesce anche nell'ambito di una visita, di una prova da sforzo a riscontrare delle problematiche. Quindi sicuramente tra il medico e chi effettua la visita ci vuole una collaborazione perché non dimentichiamo che l'interesse di avere l'idoneità ce l'ha soprattutto l'atleta perché nel momento in cui si riescono ad evitare eventi gravi come tante volte capitano e direi che capitano sempre di più al giorno d'oggi, non passa giorno che non ci siano purtroppo eventi anche gravissimi sui campi di gara appunto perché c'è questa tendenza specialmente in certi sport ad alto rischio diciamo come il ciclismo che viene praticato ad altissima intensità anche da persone di età molto matura e direi quasi avanzata che anche non hanno proprio una salute di ferro e presentano anche magari alterazioni che possono portare anche una patologia di tipo ischemico e quindi il fatto di sapere le condizioni reali di salute e quindi sapere se una persona ha il colesterolo alto piuttosto che un po' di diabeto o la pressione alta aiutano il medico a indirizzare anche meglio il paziente. Ecco ci sono tanto questa che era una domanda di Davide Palermo della Sports Science Academy e c'è anche Luca Peri che arriva dal pugilato e lui ci dice c'è per il neopugile quando si tessera deve fare anche alcuni esami tra i quali l'elettroencefalogramma che dovrebbe essere rifatto se poi il pugile durante un combattimento va al capo. Ecco questo tipo di ehm diciamo di esame eh esclude eventuali problematiche future come da essere interpretato ecco? Ah diciamo che specialmente in questi sport in cui c'è esiste il KO sono sport diciamo full contact eh è molto importante che l'atleta abbia una perfetta integrità sia visiva che uditiva che ehm anche cerebrale e quindi questi esami che sono esami obbligatori che sono la visita oculistica la visita torino e l'elettroencefalogramma devono essere perfettamente normali in caso di non normalità non si può dare idoneità e ovviamente diciamo che eh quando esiste un KO eh è obbligatorio ripetere immediatamente l'elettroencefalogramma ma l'importante è anche che l'atleta anche se non c'è un KO o se se l'atleta presenta qualche sintomo tipo ad esempio una semplice amnesia oppure ehm diciamo un problema di concentrazione avvisi subito il medico perché purtroppo eh queste concussioni cerebrali possono portare delle conseguenze veramente molto gravi per la salute dell'atleta. Ecco molte volte eh intanto eh per chi si fosse collegato adesso siamo in collegamento con eh Gianfranco Beltrami che è medico dello sport e medico cardiologo e del vicepresidente nazionale della FMSI che è la Federazione Italiana Medici dello Sport. Un'altra domanda che arriva da sempre dalla Sports Science Academy da Vincenzino Silenzi e devo dire una domanda che se ne sono arrivate anche e stanno arrivando anche adesso tante. Un po' con l'età questo ticchettio biologico crea un po' di ansia un po' di paura dice superati 50 superati 55 superati 60 allora qual è l'attività più salutare ma insomma devo smettere di fare l'attività agonistica oppure l'età non conta come ci si dovrebbe comportare? Io ovviamente dico la mia ma insomma tu lo dici da medico. No io credo dipende molto anche dall'approccio che uno ha all'agonismo nel senso che ci sono persone che fanno agonismo e vanno costantemente fuori giri e quindi arrivano stremati al traguardo. Noi vediamo tante volte l'arrivo di corse ciclistiche o di maratone o di trail lunghi. Ci sono delle persone che proprio prima di riprendere conoscenza dopo l'arrivo impiegano diversi minuti. Ecco in questi casi sicuramente l'agonismo è deleterio ed è dannoso. Se invece l'agonismo viene inteso come un modo diciamo per partecipare a una gara in allegria in compagnia io credo che non ci sia un'età per cui si debba smettere l'agonismo sempre che logicamente il medico sportivo rilevi la possibilità di fare questa di avere questo tipo di certificazione e quindi una normalità sostanziale di tutti gli esami dei parametri che sono indagati. Ecco molte volte adesso ti dico come diciamo il mio approccio che sto da quest'altra parte della barricata diciamo io ovviamente a tutti quanti consiglio benissimo la visita medica obbligatoria fatela io consiglio sempre di fare anche quella agonistica dopodiché l'errore più comune indipendentemente dall'età è che poi non si allenano a quelle gare. Tu hai fatto degli esempi poco fa di gare dove arrivano stremati eccetera perché molte volte anzi il più delle volte in questi casi fanno degli allenamenti che non hanno niente a che vedere con gli adattamenti fisiologici che sono richiesti da quella prestazione quindi fanno allenamenti molte volte lunghi lenti eccetera quando ahimè in gara ci mettono di tutto di più c'è lo stress c'è l'ansia c'è la voglia di arrivare c'è la voglia di competere e quindi fanno una gara per la quale non si sono sinceramente mai allenati quindi in questa condizione credo che è veramente da suicidi fare queste cose perché non c'è nessun adattamento fisiologico se invece si rispettasse la fisiologia quindi si facesse un allenamento coerente con quella prestazione credo che così come accade a quei 60 anni anche a volte 70 anni molto ben allenati che non hanno nessun problema quindi molte volte sì sono perfettamente d'accordo con te l'allenamento è la base diciamo di un sano agonismo quindi bisogna senz'altro che la gara sia soltanto l'epilogo di una programmazione ben fatta di un allenamento fisico ecco adesso c'è una domanda di giovanni caro figlio che poi un fisioterapista di lecce nella sports science academy insomma tira fuori un argomento citato anche da altri ma ahimè è andato sui giornali più volte citato anche tu molti casi cause di morte improvvisa cose sono intanto quali sono le linee guida eventualmente da seguire eventuali screening che che possono diciamo anche anticipare questo ma insomma già il nome dice che è molto spesso diciamo si hanno casi di morte improvvisa anche con accertamenti completamente normali e quindi anche con un elettrocardiogramma a riposo sotto sforzo perfettamente nella normalità ecco in questi casi il problema si pone perché la legge non prevede alcuni accertamenti che invece potrebbero essere consigliati ad esempio un ecocardiogramma che può rappresentare comunque un successivo step specialmente importante specialmente per atleti che fanno certi tipi di sport e poi ci sono delle problematiche di tipo genetico e difatti noi medici dello sport chiediamo sempre è molto importante la storia clinica del paziente sapere se nella famiglia dell'atleta ci sono dei casi di morte improvvisa che in questi casi noi facciamo fare un'indagine genetica che è un'indagine molto costosa e comunque non chiede richiede molti mesi per essere effettuata però se in una famiglia sono diversi casi di morte improvvisa è corretto affrontare anche questo tipo di accertamento che consente appunto di valutare una predisposizione genetica ad alcune patologie tipo la sindrome di brugada altre problematiche aritmiche che purtroppo provocano la morte improvvisa ecco su questo volevo proprio dare un spezzare una lancia per tutti coloro ovviamente atleti che vanno dal medico e vedono nella parte preliminare della visita nell'anamnesi quelle cose un po dice sì 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 no non c'è niente tutta poi andiamo avanti ecco come invece ha detto proprio l'anamnesi della storia personale e anche della famiglia è fondamentale perché poi il bravo medico già dall'anamnesi riesce a avere un quadro a volte anche vicino al 50 per cento di quello che potrebbero essere i fattori di rischio eccetera quindi non sottovalutate nulla perché è importante fondamentale e mai trascurare argomento adesso che riguarda le arti marziali un'altra domanda dalla nostra academy peppe barba che è un coach delle mma arti marziali miste allora nella l'ultimo elenco del coni non esistono tutte sono arti marziali sono sono tantissime sono innumerevoli eccetera quindi c'è un elenco e molte volte non risultano tutte magari ce ne sono certe solo locali tipo ha citato si strumpa che credo che sia presente solo in sardegna però magari non ci sono alcune arti marziali ecco in questo caso molte volte nasce il problema tipo il medico dello sport non ce l'ha nella nella sua griglia nella sua lista e quindi nasce un po di incompressione in questi casi cosa si deve fare ma diciamo che effettivamente il coni è il coni che riconosce le varie federazioni sportive questo processo di riconoscimento deve essere portato avanti dalle singole federazioni o istituzioni credo che il medico dello sport nel momento debba distinguere tra arti marziali light contact in cui è sufficiente fare una visita normale quindi con solo elettrocardiogramma riposo sotto sforzo spirometrie esamurine visita rispetto invece alle arti marziali full contact in cui è previsto il ko e in questi casi diciamo è obbligatoria anche l'elettroencefalogramma come dicevamo prima la visita oculistica la visita torino e una maggiore attenzione perché appunto queste discipline possono portare più frequentemente a dei danni cerebrali quindi se non è nell'elenco io credo che la differenziazione vada fatta sulla base del full contact o del light contact e diciamo attenersi alle posizioni di legge. Due domande dei nostri ciclisti over 55 nell'academy Laura Ceccon che fa mountain bike ultra endurance proprio si fa tutte le dolomiti un paio di volte per un paio di giorni e Giuseppe Spinosa ugualmente invece su strada che anche loro diciamo sono over 55 over 60. Allora ci sono al di là di quello che abbiamo detto prima nel senso ovviamente se non si è allenato a questo è un problema ma loro due e sono perfettamente allenati proprio stanno sul pezzo però che cosa dovrebbero magari controllare talvolta oltre la visita ordinaria cioè hai dei suggerimenti così come normale profilassi di ulteriori esami o accertamenti o consigli o suggerimenti? Sì io credo che nel ciclista sia estremamente importante valutare anche un profilo ematochimico controllare i dosaggi di vitamina D che nel ciclista sono sempre a rischio perché non si sa bene il motivo però rispetto ad altri sport nel ciclismo la vitamina D è sempre diciamo carente e al di là di quello direi controllare sempre la frequenza cardiaca riposo possibilmente anche l'art rate variability che sono appunto degli indicatori importanti anche dello stato di recupero perché non dimentichiamo che il riposo rappresenta uno dei più importanti aspetti del recupero e quindi diciamo se non si recupera bene è inutile allenarsi tanto. L'errore che fanno molti ciclisti è proprio quello di esagerare con i carichi di lavoro senza aver recuperato bene quindi tu ben sai come tu ben sai l'allenamento a questo punto non serve. Eh no non serve a niente tu hai citato diciamo la vitamina D molte volte soprattutto al nord Italia soprattutto d'inverno soprattutto i ciclisti poi alla fine hanno ben poche possibilità anche di essere esposti al sole certo. Al sole quindi oltretutto c'è questo problema ma poi magari anche un'alimentazione non corretta eh magari anche carichi di vitamine non sufficientemente utili. Come consigli l'integrazione diciamo non l'integrazione in termini di integratori ma l'integrazione tra medicina e eh nutrizione ovvero che rapporto consigli di avere con il nutrizionista specializzato in sport? Beh è un rapporto direi quasi obbligatorio cioè obbligatorio nell'atleta agonista ma tanto ma molto utile anche nell'atleta di livello amatoriale perché eh purtroppo al giorno d'oggi gli alimenti non contengono quello che dovrebbero contenere abbiamo dei cibi impoveriti da un punto di vista nutrizionale quindi è molto importante diciamo apportare nello sportivo nell'atleta che ha dei fabbisogni molto più eh importanti rispetto alle persone normale a portare appunto i nutrienti necessari quindi credo che sia veramente molto importante come io dico sempre come per una una Ferrari occorre l'olio migliore la benzina migliore e tutti i componenti migliori nell'atleta bisogna ricercare proprio per una per una per un'ottima performance di avere una nutrizione estremamente eh accorta efficace con degli alimenti di di ottima qualità quindi l'integrazione tra il medico dello sport ehm se non è nutrizionista lui stesso col nutrizionista è fondamentale. Ecco c'è un'altra domanda adesso sempre ciclismo cioè sono tantissimi con noi Daniele della Tommasina che ci dice in ultimi anni la federazione o comunque ehm la federazione medicina dello sport ha levato per quanto riguarda la ciclisti agonisti 17 18 anni che entrano in categoria eh l'esame l'elettrocardiogoppler dovrebbe essere e anche la visita del ehm del sangue ehm tanto perché eh ma poi giustamente da da tecnico lui dice ma andrà bene non è che poi la dobbiamo fare comunque come possiamo tutelarci possiamo stare comunque tranquilli eccetera ma io credo che diciamo il medico dello sport debba seguire gli atleti non soltanto nel momento una volta all'anno che eh fanno la visita di tipo agonistico ma bisognerebbe che fossero seguiti tutto l'anno e quindi in questi casi diciamo anche appunto da un'anamnesi ben fatta dalla dal sentire le condizioni dell'atleta eh cercando di capire quelle che sono le sue problematiche le sue carenze e possono scaturire delle richieste di esami magari supplettivi rispetto alla legge dell'ottantadue è chiaro che questa legge non è mai stata cambiata perché è un problema anche di costi perché molto spesso sappiamo che sono le società sportive a dover sostenere i costi di queste visite e quindi fare degli esami come l'ecocardiodoppler come eh magari un profile ematico ben fatto alle volte è facile spendere anche qualche centinaio di euro e quindi rendere questi esami obbligatori diventa anche un ostacolo alla pratica sportiva e quindi bisogna che sia il medico che su casi selezionati eh diciamo valutando appunto eh da una visita clinica dalla storia dell'atleta eh sia sia il medico che prescrivo ulteriori accertamenti. Ecco molte volte nasce eh un po' così il dubbio no? Perché io insomma lo dico sempre col sorriso perché d'altronde tutti guardiamo anche un po' di televisione ogni tanto e a volte c'è qualche esperto al di là insomma della sua professione però qualcuno che un po' invade i campi, dà consigli un po' eh che non hanno molto senso e quindi il consiglio magari qualche volta c'è qualcuno che dice ma come in televisione mi hanno detto che l'unica cosa a salutare è la corsa lenta, piano, quando sono stanco fermati eh perché altrimenti chissà che succede. Però insomma prima l'abbiamo un po' accennato questo ti sembra anche seguendo le linee guida internazionali il miglior consiglio da dare a chi vuole entrare in forma e migliorare le prestazioni? No direi che diciamo ogni persona ha le sue caratteristiche, ha naturalmente deve avere una ricetta un po' individualizzata, però eh non è assolutamente vero che la camminata o la corsa lenta siano eh diciamo migliori invece di un allenamento ben fatto magari con delle ripetute o con dei carichi di lavoro differenziati durante la giornata e durante la settimana. È chiaro che dipende un pochettino per quello che riguarda la salute è molto importante allenare tutte le componenti diciamo importanti che sono non solo la resistenza ma anche la forza piuttosto che l'equilibrio, l'allungamento, la propria eccettività per cui diciamo che tutte queste componenti andrebbero allenate sempre. È chiaro che ognuno ha la sua ricetta a seconda di quelle eh che sono le caratteristiche fisiche individuali. Ecco su questo volevo visto che l'hai un po' citato, volevo dire che le stesse regole quindi sia l'attività eh prevalentemente aerobica ad alta intensità poi che quella anaerobica soprattutto per la forza viene consigliata dalle linee guida internazionali utile, utilissima anche per gli over 65 dove eh volevo giusto dire che insomma Gianfranco Beltrami è stato ed è nostro consulente per un progetto che poi in questi giorni sta partendo in 40 eh palestre in una regione italiana in Sardegna eh grazie poi alla grande partecipazione del del eh comitato regionale del CONI, presidente Farra che salutiamo e proprio in quel caso eh gli anziani non hanno quell'attività diciamo di ginnastica dolce molto nota ma è molto più spostata in attività intensa che segue le linee guida internazionali e i benefici a livello scientifico in varie pubblicazioni sono eh sono stati molto utili e sono veramente molto utili quindi anche per le over 65 che magari non hanno fatto agonismo ma che vogliono fare attività consiglieresti di fare comunque uno screening medico di che tipo? Ah quello assolutamente sì c'è deve essere uno screening che prevede diciamo una raccolta anamnestica importante di tutte le varie problematiche e poi sicuramente una valutazione approfondita di livello cardiologico respiratorio e ematochimico poi dopo il medico durante la visita nel momento in cui vede che c'è una problematica per dire un ginocchio un'anca sarà il medico stesso a prescrivere quell'esame per eh appunto approfondire una certa eventuale patologia che eh potrebbe essere eh diciamo con che potrebbe controindicare un certo tipo di attività fisica quindi io credo che la visita attenta, curata, supportata da una buona anamnesi sia la base comunque fondamentale di ogni controllo. Ecco c'è un'altra domanda di Massimo che ci chiede quindi anche su quello che ci siamo detti prima con la visita medica eh che riguarda che diciamo prevede l'elettrogradogramma a riposo, l'ECG a riposo, che tipo di patologie sicuramente si escludono? Allora si possono escludere eh diciamo ad esempio un pregresso infarto eh si possono escludere delle aritmie importanti tipo ad esempio la fibrillazione atriale, si possono escludere eh i blocchi di branca, cioè tante patologie, ad esempio la patologia coronarica eh diciamo se ha uno stadio grave eh dà dei segni anche nell'elettrocardiogramma a riposo, invece quando la patologia è sul nascere e a livello eh diciamo iniziale occorre una prova da sforza. Però già l'elettrocardiogramma a riposo eh diciamo è comunque una buona base di screening. E' chiaro che eh il è già stato un grosso passo avanti eh con la legge Balduzzi aver introdotto l'elettrocardiogramma a riposo due anni fa, perché prima l'elettrocardiogramma, cioè la visita non agonistica veniva fatta dal medico curante eh diciamo senza nessun esame e invece io credo che sia molto utile anche questo ECG a riposo perché consente comunque di 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 approfondire ad esempio eh una persona che è ipertesa e ha avuto la la pressione alta per un certo tempo questo eh porta delle a delle alterazioni anche dell'elettrocardiogramma a riposo. In quali casi durante la visita medica non agonistica invece si rende necessario di fare anche il ehm l'ECG sotto sforzo? Ecco diciamo che quando c'è qualche anomalia dell'elettrocardiogramma a riposo si richiede l'elettrocardiogramma sotto sforzo oppure quando il paziente eh eh riferisce ad esempio di avere un po' di affanno di respiro eh per per dire quando eh fa attività oppure qualche dolore eh diciamo che è il paziente stesso che orienta eh oppure noi lo richiediamo sempre quando ad esempio uno ha il colesterolo molto alto oppure quando uno ha una familiarità per cardiopatia ischemica ci siamo sono tante le componenti che orientano il medico a richiedere questo esame sotto sforzo. Ecco e qui ci stiamo spostando un po' nell'area un pochino più agonistica con l'ECG sotto sforzo un'altra domanda che arriva dall'academy molte volte capita che magari il test fatto dal medico dello sport sia diciamo non specifico eh per mettiamo il caso un nuotatore che deve fare il test sul ciclo ergometro quindi molte volte il test si interrompe eh a volte anche ben prima del della percentuale teorica dell'FC max della frequenza cardiaca massima eh in quel caso come funziona nel senso ovviamente eh l'atleta magari arriva a un numero a un livello di battiti molto basso però poi muscolarmente non riesce più a pedalare com'è l'iter nel senso eh come funziona a livello diciamo medico la la visita è perfetta o bisognerebbe rifarla? No va sicuramente rifatta diciamo le linee guida prevedono che si raggiunga cioè io faccio fare sempre un test da sforzo massimale e quindi bisogna sempre raggiungere la frequenza cardiaca massima è chiaro che nel momento in cui non si riesce a raggiungere con eh o col tapirulano o con eh diciamo il ciclo ergometro si possono usare altri ergometri eh ad esempio si può anche monitorare con un alter cioè si mette una o si fa una registrazione in continuo dell'elettrocardiogramma e si manda l'atleta ad allenarsi e poi si valuta l'elettrocardiogramma durante l'allenamento quindi diciamo che eh il test massimale va sempre fatto se non si raggiunge la frequenza cardiaca il carico eh necessario ci sono altri metodi per valutare appieno l'efficienza cardiovascolare sotto sforzo massimo. Ecco a livello medico eh voi quando intendete la frequenza cardiaca massima è quella teorica massima ricavata dalle formule. Eh ho perso qualche battuta non ho. No dicevo a livello medico perché poi diciamo a livello di allenamento le cose stanno un po' diversamente ma durante una visita medica quello che voi definite come livello di frequenza cardiaca massima è diciamo la stima teorica proveniente dalle formule. Sì diciamo che su dove deve superare almeno l'ottanta 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 cinque per cento di un valore che è duecentoventi meno gli anni però diciamo è sempre consigliabile io faccio fare sempre la prova da sforzo massimale fino all'esaurimento muscolare cioè vale a dire fino a quando l'atleta non ne può più e chiede lui di fermarsi. Che sarebbe la norma. Allora su questo eh c'è un'altra domanda che che proprio simile perché molte volte capita che magari medico dello sport durante questa visita medica ehm so anche perché poi magari l'atleta il tecnico lo chiede eccetera e quindi dia dei parametri dei parametri questa è la tua frequenza cardiaca questa è la tua soglia anaerobica eccetera ma poi giustamente l'allenatore si rende conto che non c'è molta rispondenza eh tra quel tipo di dato e quello che poi viene in succede in campo in piscina e eccetera. Allora anche se il test diciamo è simile perché in teoria c'è un argometro in teoria c'è un test incrementale però eh tu ritieni che sia meglio fare eh le cose unite cioè durante la visita medica anche qualcosa che riguardi la performance oppure scindere quindi visita medica e poi in un altro momento in un'altra condizione più specifica una visita che dia i parametri reali da utilizzare nella performance. Ma eh insomma devo dire che sono pochi i medici dello sport che sono preparati per fare diciamo un'indagine eh del tipo che tu hai detto io credo che sia sempre meglio scindere le due cose anche perché noi sappiamo bene che c'è una bella differenza tra il fare una prova da sforza su un ciclergometro piuttosto che utilizzando la propria bicicletta e quindi credo che sia bene che l'allenatore faccia l'allenatore il medico faccia il medico e che vengono fisso le due cose. Ecco intanto c'è un commento eh di Giuseppe Spinoza dell'Academy dice l'ultima visita medica il medico gli ha detto la trovo ben conservato quindi insomma è andata è andata bene. Allora c'è una una domanda che riguarda Alessandro Bigi dell'Academy come invece eh ritieni eh utile il potere inserire magari non durante la visita medica ma durante eh una valutazione generale l'HRV la variabilità cardiaca. Ma direi che è un presidio molto molto utile appunto come dicevamo prima per monitorare l'allenamento eh molto utile per valutare il recupero e e quindi credo che sia una 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 cosa eh indispensabile a livello medico è anche importante per evidenziare dei momenti di stress di overtraining e quindi credo che sia una cosa che pur non essendo ancora entrata eh direi a pieno titolo eh nella nell'ambito della 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 programmazione dell'allenamento ha una sua enorme dignità e validità e credo che eh sia bene eh diciamo che anche i medici comincino a conoscerle a valutarla per quello che può dare. Ecco intanto questa live è veramente a iper approfondita abbiamo fatto tantissime domande c'è un'altra lo stesso molto interessante che riguarda un po' l'aspetto medico e un po' anche la tasca come detto anche tu insomma poi alla fine sono costi. Ad esempio la visita medica agonistica prevede che ci venga indicato lo sport la disciplina alla quale tu sei tesserato a livello agonistico ma molte volte capita che quell'atleta che so vedi il caso del triathlon poi faccia anche gare del ciclismo gare dell'atletica gare del nuoto e quindi sarebbero quattro le federazioni incluse e molte volte capita che eh non venga accettato il certificato con la scritta che so nuoto piuttosto che ciclismo nell'atletica o nel triathlon. È una norma si può trovare il modo di risolvere? Diciamo che questo è corretto diciamo che la visita medico sportiva è sport specifica quindi il medico per legge deve fare un certificato per ogni sport quindi la visita è sempre quella però al termine della visita devono essere rilasciati un numero di certificati pari al numero di sport che vengono fatti per cui diciamo se un atleta pratica triathlon ma anche atletica leggera o ciclismo eh al termine della visita che è sempre quella è una visita devono essere rilasciati tre certificati distinti e che la cosa che noi facciamo normalmente comunemente è rilasciando un duplicato in originale. Quindi comunque buona norma anche come consiglio se lo sapete già che durante la stagione dovete magari fare che so anche solo una volta una gara in un'altra federazione in quel momento fate una trattativa col medico perché in quel momento altrimenti dovete rifare la visita mi sembra corretto se 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 poi dopo mesi volete aggiungere qualcosa al certificato non è più corretto. Un'altra domanda importante anche questa durante la la prova da sforzo massimale durante quindi la visita medica agonistica esiste un protocollo anche di warm up che bisogna eseguire? Sì eh diciamo che eh ci sono proprio dei protocolli cardiologici in genere si fa fare ma basta poco un paio di minuti eh due o tre minuti di warm up e poi comunque la prova è sempre incrementale quindi si parte sempre con trenta watt poi si fa sessanta novanta e quindi diciamo ehm è comunque eh il warm up anche facendo diciamo due minuti a trenta watt e due minuti a sessanta watt per un atleta di solito eh questo è già un buon riscaldamento. Ecco credo che sia l'ultima domanda te la faccio io eh perché abbiamo parlato molto di sport ma poi forse la la stragrande maggioranza delle persone sia che seguono la pagina ma che fa un'attività fisica in Italia sono più eh tendenzialmente nell'area del fitness quindi comunque tesserate non ad una federazione ma ad un ente di promozione per insomma la propria ASD. Ecco molte volte capita insomma arrivano delle domande che eh qualche medico eh produce dei certificati dove c'è la dicitura a stato di buona salute eccetera eccetera o addirittura cose anche precedenti. Eh esattamente quindi giusto per la la sgombrare qual è l'unico certificato che indipendentemente dal fatto che si vada a fare fitness o sport non agonistico debba eh si deve presentare. Allora diciamo che la legge prevede per eh gli enti di promozione sportiva affiliati al CONI il certificato non agonistico. Il certificato non agonistico eh lo può fare il medico specialista in medicina dello sport, il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti oppure i medici della federazione medico sportiva italiana che pur non essendo specialisti hanno fatto il corso per potersi iscrivere alla federazione e quindi per gli enti di promozione è obbligatorio questo tipo di certificato non agonistico. Poi esiste il certificato diciamo ludico motorio. Questo tipo di certificato ludico motorio non è obbligatorio per legge però però ci sono alcune strutture e alcune palestre che possono legittimamente richiederlo e lo fanno per motivi di tipo assicurativo perché eh ci sono alcune assicurazioni che eh nel momento in cui i tesserati di una palestra hanno il certificato medico abbattono i costi dell'assicurazione e quindi diciamo una palestra privata che non è ente di promozione ha legittimamente la possibilità di dire se volete iscrivervi da me portate il certificato di tipo ludico motorio. Il certificato di tipo ludico motorio può farlo qualunque medico non c'è limitazione basta la laurea in medicina. Solo però se questa ASD alla quale si presenta il certificato non è tesserata con un ente di promozione sportiva o con operazione. Assolutamente sì. Se invece è tesserata allora lì occorre il certificato non agonistico come dico che deve essere rilasciato soltanto da quelle figure mediche professionali e con l'elettrocardiogramma. Ecco e il certificato diciamo precedente al decreto Balduzzi quindi eh lo stato di salute eccetera che fine hanno fatto? Niente diciamo che non sono non hanno più nessuna o obbligo nessun valore legale diciamo sia il decreto Balduzzi ha voluto liberalizzare in un certo senso l'attività fisica facendo come in tanti altri paesi europei come negli Stati Uniti per cui il certificato non è obbligatorio e quindi uno può potenzialmente iscriversi ad una palestra firmando una liberatoria e non presentando alcun certificato. Io lo ritengo una cosa non corretta perché comunque diciamo in questo modo eh si dà la possibilità a persone magari a rischio affette da patologie importanti di eh fare eh sforzi e eh fisici e eh attività sportive che possono essere veramente pericolose per la salute quindi secondo me non è eh tanto corretto e so che in tantissime palestre comunque il certificato pur non essendo obbligatorio per legge viene richiesto. Ecco su questo infatti eh ci doveva essere il collegamento dell'avvocato Cervone che però ha avuto un problema di linea proprio perché poi diciamo c'è un aspetto medico l'aspetto legale però poi alla fine in una palestra ehm se dovesse capitare ahimè qualcosa nascono degli degli sviluppi anche di tipo penale che insomma bisogna anche essere attenti e capire se poi il caso di far entrare persone senza certificato o stare anche attenti perché mi sembra di ricordare dalla legge che la diciamo il non obbligo del certificato valga quando l'attività non è codificata in modo preciso nel senso che difficile dire vada a fare attività ludica quando invece vai in palestra esattamente lunedì mercoledì venerdì esattamente da 17 e 18 e esattamente per seguire quel corso per tot tempo. Certo sì sì la mia opinione è che il certificato è comunque valido cioè comunque utile è necessario. È chiaro che ehm diciamo il legislatore ha voluto togliere l'obbligo del certificato che alle volte può essere di ostacolo alla pratica sportiva per il costo che questo certificato ha. Eh però io dico ci sono tantissimi atleti che spendono tanti soldi diciamo che il certificato medico ha un costo eh che può avere una maglietta o un paio di calze e quindi credo che sia più importante tutelare la salute che magari per non parlare delle biciclette che costano migliaia di euro. Anche il caschetto ho fatto eh un regalo una volta e solo il casco costava tantissimo due o tre visite mediche. Allora ultima domanda te la faccio io perché eh questo mi sembrava importante mi sono dimenticato la la domanda perché sa l'età anche eh qual era la domanda che dovevamo fare eh va bene eh me la non me la sono scritta e me la sono completamente dimenticata. Va bene allora eh chiudiamo la diretta è stato veramente eh bello averti Gianfranco Beltrami che ricordo eh medico dello sport e cardiologo e vicepresidente nazionale dell'FMSI e lui è eh responsabile poi nei centri di medicina dello sport eh di Parma che sono in due eh sedi non mi ricordo la via di entrambi se ce lo puoi dire. Via Galilei il primo quello più grande l'altro è inserito nel campus universitario al centro Ercole Negri è una bellissima struttura veramente moderno delle più belle d'Italia dove sei stato anche tu dove speriamo di riaverti presto perché avevi fatto il pienone quella sera e quindi eh ancora molti rimpiangono e vogliono riaverti. Rimpiangono un po' esagerato ma vabbè no conto conto di tornare a Parma a brevissimo anzi prometto che domani ti manderò una mail con due o tre date presumibilmente verso metà maggio eh in modo da insomma di fare un altro incontro anche perché Parma poi è una città che mi piace particolarmente e quindi sicuramente tornerò. Allora grazie davvero consiglio a tutti di rivedere la diretta che fra qualche minuto sarà disponibile perché ci sono molti molti spunti importanti da portare a casa perché poi l'aspetto di della medicina con lo sport è qualcosa che deve andare sempre a braccetto io consiglio sempre lo dico anche adesso c'è Gianfranco Beltrami il l'alleato del l'allenatore è il medico dello sport perché va consultato va va fatto un rapporto di fiducia con il medico dello sport quasi come fossero un comprenente dello staff anche se molte volte sono difficile farlo perché non è un medico per una malattia è un medico per lo sport quindi molte volte durante l'anno possono anche capitare delle cose dove l'allenatore non sa se ha sconfinato così dire dalla fisiologia alla medicina e quindi anche diciamo qualche volta può capitare il dubbio quindi avere un buon rapporto col medico dello sport io lo consiglio credo che anche i medici dello sport lo vogliano questo rapporto con gli allenatori o no? Assolutamente sì direi che è fondamentale cioè lavorare in gruppo lavorare in staffe la cosa migliore proprio sia per tutelare salute e anche per dare lo sportivo le migliori soddisfazioni. Perfetto grazie ancora Gianfranco grazie a tutti. Grazie Mario a presto. Ciao Gianfranco. Alla prossima. Ciao a tutti. Buona serata a tutti.